Allora, benvenuti a questa lezione di programmazione d'oggetti. L'obiettivo di oggi è vedere assieme come possono funzionare le interfacce grafiche in Java. Iniziamo da alcuni principi generali che non si applicano soltanto a Java, ovvero quello che si chiama il pattern MVC, Model, View e Controller. È un pattern che si applica al 90% delle interfacce grafiche, sia locali, sia remote, quindi web, e sostanzialmente suggerisce un modo di andare a suddividere i vari componenti che devono essere presenti in interfaccia grafica in tre componenti principali, che si chiamano per l'appunto Model, View e Controller, come suggerisce il nome. Il primo componente che è il model sostanzialmente non fa altro che contenere i dati. Si chiama Model perché definisce il modello dei dati. Può essere più o meno complesso. Sostanzialmente l'idea è che questo componente offra agli altri due componenti tutti i metodi per andare a leggere e ad aggiornare i dati. Per cui, se pensate agli esercizi che avete svolto finora in laboratorio, ecco, quelle cose che avete sviluppato sono sostanzialmente dei model. Se ci pensate, c'è qualcuno che può andare a inserire dei dati, a leggere dei dati, visualizzarli, quelli sostanzialmente sono dei model. Quindi un model non è una classe, almeno nella maggioranza dei casi non è una classe, è qualcosa di più complicato. Potrebbe avere un'unica classe di interazione, la famosa classe di tipo passaggio, che filtra le complessità che stanno sotto. Però normalmente è un componente che vuol dire un qualcosa che può andare, nel caso minimo da una classe, a più package. Dipende dalla complessità di quello che sta sotto. Gli altri due componenti, view e controller, hanno due scopi leggermente diversi. Quindi il modello è chi gestisce i dati. Il componente view è quello che li visualizza. Quindi offre una vista sui dati. In questo schema è presente un unico view, in realtà all'interno del macro componente di view potrebbero esserci tante viste sugli stessi dati. L'esempio tipico è dato da un foglio elettronico in cui io ho i miei dati, sono le informazioni che ci sono in diverse celle del foglio elettronico. Un tipo di visualizzazione è quella griglia che noi vediamo, il foglio elettronico. Un altro tipo di visualizzazione potrebbe essere un grafico che è basato sugli stessi dati. Noi di solito associamo la griglia ai dati stessi, in realtà la griglia è una visualizzazione dei dati. Quindi da qualche parte ci saranno informazioni sulle varie celle, poi abbiamo un pezzo della nostra vista che li visualizza sotto forma di griglia, un altro pezzo che li visualizza sotto forma di grafico. il terzo componente che è il controller è quello che si occupa della gestione degli eventi, ovvero quello che decide come interagire con l'utente. Quindi l'utente andrà a cliccare, a selezionare, a inserire dei dati da tastiera, andare a trascinare, rilasciare. Abbiamo un sacco di possibili interazioni, pensando su non al mouse, se pensiamo all'interfaccia di tipo touch, abbiamo tutte le varie operazioni che possiamo fare con dispositivi touch. ecco, tutte queste operazioni passano attraverso il controller che riceve la notifica di un evento, è successo qualcosa sull'interfaccia grafica e decide cosa fare. Il controller può fare due operazioni fondamentalmente, andare ad aggiornare la view, poi non lo so, avete semplicemente deciso di aumentare lo zoom, ridurre lo zoom di quello che state visualizzando e quindi questo andrà ad aggiornare la view. Operazione pure semplice. Un'altra operazione che può fare il controller è quello di andare ad aggiornare i dati. Quindi avete appena spiacciato CTRL-C e quindi il controller è andato a prendere dalla clipboard un dato e l'ha incollato dove eravate posizionati. Questa separazione di tre componenti è molto utile perché ci garantisce che l'evoluzione di questi tre componenti possa essere sostanzialmente abbastanza indipendente da quella delle altre. Allora, sicuramente è abbastanza indipendente il modello. A me non interessa sapere esattamente come verrà visualizzato. Il modello contiene i dati. Finché riesci a fornire dei dati utili per essere visualizzati, va bene. Dopodiché io posso metterci sopra un'interfaccia a carattere, un'interfaccia grafica, un'interfaccia web, un'interfaccia vocale, un'interfaccia di tipo augmented reality, 3D, 2D, quello che volete. I dati sono lì. È possibile che io debba cambiare il modello, magari voglio aggiungere dei dati, ma sostanzialmente questa modifica impatta in minima parte gli altri. Finché non visualizzano i nuovi dati, la view non cambia e il controller neanche. Posso anche andare a modificare e costruire in maniera assolutamente indipendente la view. Quindi voglio andare ad aggiungere una mia visualizzazione dei dati, lo posso fare tranquillamente. Aggiungo una finestra che accede al mio modello e lo fa secondo le sue regole. Costruire questa nuova view, modificarla, farla evolvere, è un qualcosa che io posso fare assolutamente in maniera indipendente da quello che è il model. E quindi non devo andare a toccare il model. Idemo per il controller. Il controller è quello che sostanzialmente è un po' più accoppiato con gli altri componenti, perché se io modifico leggermente il model, il controller deve essere modificato di conseguenza. Ovviamente se modifico la view, aggiungo, tolgo dei pulsanti o dei punti, è chiaro che il controller dovrà essere aggiornato di conseguenza. Però il controller tendenzialmente è relativamente semplice. Riceve una notifica e decide cosa fare. Gli altri due, il model e il view, sono quelli più consistenti, più complicati. E il grosso vantaggio di avere questa struttura è che io li posso andare a modificare e far evolvere senza avere impatti enormi sugli altri componenti. soprattutto posso concentrarmi su un aspetto per volta. Quindi abbiamo visto che con le nostre conoscenze attuali di Java riusciamo a gestire il model, riusciamo a costruirlo, quindi abbiamo la necessità di andare a descrivere un certo tipo di dato. Benissimo, abbiamo gli strumenti per andare a costruire un insieme di classi che siano in grado di rappresentarlo e di operare su questi dati. Gli altri due elementi che ci restano da capire come funzionano sono la view e il controller. Iniziamo dalla view, che è quella che mostra delle informazioni. Quando io ho un'interfaccia grafica, diciamo che la consideriamo di tipo stand alone, quindi una finestra che agisce sul vostro computer, non parliamo di interfacce remote o tipo interfacce web, normalmente ho bisogno di un contenitore, ovvero ho bisogno di qualcosa in cui andare a mettere le mie componenti grafici. Questo contenitore normalmente è una finestra. Non sempre abbiamo una finestra, non per tutte le interfacce grafiche, potremmo avere, se immaginate di avere un plugin, ad esempio noi abbiamo visto tante volte questo plugin JUnit, ecco, questo è un componente unico, quindi che è in grado di eseguire il codice di test e visualizzare i risultati. Quindi in questo caso il contenitore principale non è la finestra, ma sarà questo pannello che è visualizzato qui. Non andremo a sviluppare plugin o altre cose, vediamo per sommi capi come possiamo andare a sviluppare un'applicazione grafica che abbia finestre normali. In Java esistono due grossi framework principali, framework che è un insieme di classi, quello un po' più vecchio si chiama Swing, quello un po' più leggermente si chiama JavaFX. In realtà ce n'è un terzo ancora più antico che è quello delle origini che si chiama AWT, che però è qualcosa di molto primitivo e poco utilizzabile. Noi ci concentreremo per questa nostra panoramica molto veloce su interfacce grafica in Java su Swing, che è sostanzialmente quello più diffuso. JavaFX sembrava essere il rimpiazzo di Swing, ma prima è stato incluso nel JDK, poi è stato tolto, quindi ha un'evoluzione un po' travagliata, mentre Swing è da sempre incluso all'interno del JDK. La classe che in Swing rappresenta la finestra, quindi il contenitore principale per le nostre interfacce grafiche, si chiama JFrame. Quindi io posso andare a creare una nuova finestra, JFrame F uguale new JFrame. Ovviamente JFrame deve essere importato e JFrame si trova nel package javax.swing. Una volta creato l'oggetto finestra, non eseguo il codice perché tanto non succede nulla, abbiamo creato un oggetto in memoria, ma non ancora il suo corrispettivo visuale. Quello che dobbiamo fare è fare un F.set Visible. Una volta che facciamo questa operazione, la nostra finestra viene visualizzata. Allora, domanda. All'inizio del corso si è detto che Java non è la scelta migliore per costruire applicazioni che andranno su desktop perché non è possibile generare file eseguibili. Perché allora esiste una classe che fornisce elementi per la gestione delle finestre desktop? Allora, io non ho mai detto che Java non è fatto, non va bene per costruire applicazioni desktop. In realtà funziona, Eclipse e anche tante altre applicazioni sono basate su Java. Quello che normalmente non si può fare in maniera semplice è prendere Java e generare un eseguibile. La distribuzione passa attraverso i file jar. Li avete visti non creati, ad esempio i test che io vi do sono impacchettati dentro un file jar. Le vostre applicazioni potrebbero essere impacchettate dentro un file jar senza problemi. Quindi a questo punto io ho la possibilità di distribuire un'applicazione tramite jar. Ovviamente ha bisogno di una Java Virtual Machine ma ormai una Java Virtual Machine è quasi installata di default su quasi tutti i PC e quindi non è un grosso limite. È vero d'altra parte che buona parte delle applicazioni che si sviluppano oggi non sono di tipo desktop. A meno che abbiate bisogno di un'applicazione che usate soltanto voi buona parte delle applicazioni si inseriscono in un contesto molto ampio in cui andate a utilizzare dei dati che possono essere prodotti consumati da altri e quindi è necessario un ambiente di rete e quindi in questo caso è molto più semplice che una un'applicazione vada a gestire direttamente il tutto in maniera centralizzata quindi avere un'interfaccia web piuttosto di avere un'interfaccia desktop che interagisce con un qualcosa di remoto. non sto a raccontarvi vantaggi e svantaggi ma sostanzialmente se dovete aggiornare un'applicazione desktop dovete scaricarvi il nuovo pacchetto e sostituirlo a quello precedente. se dovete aggiornare un'applicazione web non fate niente la volta dopo che vi collegate vedete la nuova versione che ovviamente non funzionerà perché è un aggiornamento ma dopo qualche tentativo funzionerà quindi è immediato l'aggiornamento cosa che non possiamo dire sulle applicazioni desktop. Applicazioni desktop sono anche le app che scaricate sul cellulare quante volte se non avete l'aggiornamento automatico dovete andare ad aggiornare le vostre applicazioni? ok se invece vi collegate a un sito web non dovete fare nessun aggiornamento viene aggiornato automaticamente quindi chiudo la parentesi non parleremo ovviamente di applicazioni web perché non abbiamo il tempo in questo corso ma il primo corso uno dei primi corsi della magistrale sarà per appunto il sviluppo di applicazioni web chiudiamo la parentesi e torniamo al nostro codice quindi il codice che ho scritto qui crea un oggetto di tipo jframe che rappresenta la finestra e la rende visibile e quindi effettivamente la mostra sul nostro schermo quindi se io vado ad eseguire questo codice quello che ottengo è questo scusate me l'ho aperto sull'altro schermo ma ok se lo fate sul vostro pc se non avete un mac avete ovviamente un aspetto leggermente diverso ma sostanzialmente è una cosa così minimale d'altronde noi abbiamo creato abbiamo chiesto a Java di crearci una finestra però non gli abbiamo detto nulla le dimensioni la posizione il titolo il contenuto eccetera eccetera e quindi il sistema operativo cosa ha fatto? ha creato una finestra rendendola con le dimensioni minime perché ci stiano i pulsantini standard non ha messo un titolo nella barra di testo e quindi finestra minimale ovviamente ha tutte le funzionalità perché se io vado a trascinare il bordo questo ovviamente si ha posso espandere a tutto schermo posso ridurre e posso chiudere il chiudere però non funziona tanto bene perché è già un evento gli altri eventi sono gestiti in maniera automatica dalla finestra quindi c'è una specie di piccolo controller nella finestra che gestisce già automaticamente gli eventi principali di ridimensionamento piuttosto che massimizzazione minimizzazione eccetera la chiusura no perché è un evento che non può essere gestito automaticamente dipende cosa vogliamo fare immaginate di avere un editor di testo su cui avete scritto la vostra redazione di qualche corso ci avete lavorato per 10 ore di fila cliccate per sbaglio il pulsante X e l'applicazione si chiude non è un'esperienza piacevole quindi normalmente la gestione della chiusura è un qualcosa che deve essere fatto esplicitamente da chi ha scritto l'applicazione non è detto che io possa chiudere l'applicazione così magari voglio quando viene cliccato il pulsante di chiusura dell'applicazione chiedere di salvare salvare in automatico fare qualcosa ok per cui l'applicazione lo vediamo qui in basso vedete che è ancora attiva ok non si è spenta l'unica cosa è che sostanzialmente non è più visibile voi direte vabbè tanto il mio test ormai l'ho perso e quindi tanto vale fermare l'applicazione non andremo a scrivere dei work processor con le conoscenze che abbiamo per cui nei nostri casi molto semplici quello che possiamo fare è andare a definire che quando clicchiamo sul pulsante di chiusura dell'applicazione chiudiamo effettivamente l'applicazione e quindi questo possiamo fare con f punto set default close operation e qui andiamo a mettere un comportamento di default per la chiusura per l'evento di chiusura della finestra lo possiamo fare con jframe punto ci sono una serie di costanti definite nella classe jframe quello che possiamo fare è do nothing on close ok ignora la chiusura dell'applicazione va bene exit on close praticamente chiama system punto exit quindi termina brutalmente l'applicazione oppure eccolo qua che era qua sopra dispose on close dispose on close cosa fa rilascia la finestra che abbiamo chiuso e se non ci sono altre finestre attive termina l'applicazione perché sostanzialmente l'applicazione non termina quando io la riduco quindi elimino la visibilità perché sostanzialmente quando io attivo la mia finestra viene creato un thread un thread che ha lo scopo di restare in ascolto di tutti gli eventi quindi questo nuovo thread è lì sostanzialmente è fermo viene risvegliato quando arriva un nuovo evento e lo gestisce in qualche modo e quindi l'idea è che le applicazioni grafiche sono inerentemente multi-thread c'è almeno un thread che viene attivato dal main che gestisce gli eventi quell'unico thread è quello che gestisce tutti gli eventi quindi se voi andate a fare un clic e ripetizione su un pulsante ecco finché quel thread non ha finito di gestire il primo clic non potrà andare a gestire il secondo a meno che arrivato il primo clic voi facciate partire un nuovo thread in cui eseguite le operazioni e liberate il thread principale in modo che possa eseguire andare a elaborare gli altri eventi non aggiungo altro su questa classe ma vado sostanzialmente a fare quello che normalmente si fa per un'interfaccia grafica ovvero io non vado a creare un oggetto di tipo jframe ma vado a creare una classe chiamiamola simple frame che estende jframe jframe ovviamente come prima dobbiamo importare abbiamo un costruttore che si occupa di andare a inizializzare la finestra potenzialmente io potrei creare un oggetto jframe e poi aggiungere tutti gli elementi quello che normalmente si fa che è un po' meglio è quello di andare a creare una classe il cui costruttore che estende jframe il cui costruttore fa tutte queste operazioni di inizializzazione per cui ad esempio set size e mi mette 800x600 questi sono pixel set title set title esempio frame finestra set default default close operation abort norma dispose on close set visible quindi quindi invece di andare a creare jframe e poi andare a operare su quello qui andrò a dire simple frame f uguale minu simple frame e questo visualizza la mia finestra che ovviamente è mostrata mi appare dall'altra parte ma quindi vedi un certo le dimensioni che vi abbiamo dato il titolo eccetera domanda set size si può fare in percentuale in base alla grandezza del monitor sì posso andare a recuperare le dimensioni del monitor e quindi quando il costruttore va ad impostare set size posso andare a definire delle dimensioni che sono compatibili con quelle del monitor in questo momento non mi ricordo mi pare sia toolkit get default toolkit punto desto property proprio dovete poi mettere una una misura adesso non ricordo i nomi delle proprietà sì c'è un metodo che si chiama best screen resolution ok perfetto allora questo è ancora più semplice sì screen size perché screen resolution è il numero di API screen size che quello subito dopo vi dà un oggetto di tipo dimension 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 è un oggetto definito nel in AVT che vi dà delle dimensioni quindi larghezza e altezza quindi se vogliamo farlo dimension da importare di punto width e di punto width e di punto height se lo lancio riempie il mio schermo di là che è diverso dallo schermo che vedete qua è un po' più stretto questo un po' più là ok quindi abbiamo un certo una certa possibilità possiamo anche andare a impostare le dimensioni scusate la posizione iniziale oltre alle dimensioni quindi ci sono un po' di dettagli che possiamo andare a a definire ok lo metto a metà così non è enorme quello che viene dopo è andare a inserire degli elementi all'interno della nostra finestra noi lo vedremo fatto a mano che andiamo a scrivere una serie di comandi cioè invocazioni di metodi che aggiungono degli elementi all'interno della nostra finestra normalmente ci sono degli editor visuali che vi permettono di andare a lavorare su una rappresentazione della finestra aggiungendo gli elementi e questi editor cosa fanno? vanno a generare sostanzialmente il codice che noi scriviamo a mano quando abbiamo delle interfacce molto grandi ovviamente è molto più comodo fare così piuttosto che a mano andare a scrivere ogni singolo elemento quali sono i componenti? beh esiste una classe di base che si chiama jcomponent da cui derivano una serie di altre classi quindi jcomponent è quello che può essere aggiunto dentro la finestra avrà una posizione una dimensione alcune caratteristiche di base un colore eccetera da questa classe derivano una serie di classi qui non ve l'ho messe tutte ma ve l'ho messe alcune che vanno a rappresentare gli elementi che costituiscono la nostra interfaccia quindi i singoli componenti si chiamano anche widget o controlli che possiamo inserire all'interno della nostra interfaccia ne mettiamo qualcuno giusto come esempio quindi possiamo andare a mettere un oggetto jlabel l uguale new jlabel ad esempio nome j text field t uguale new j text field 20 adesso vi spiego il significato dei parametri jbutton i uguale new jbutton ok sono tutte classi definite in java x swing quindi dobbiamo importarle tutte jlabel j j ho scattato field invece di field jbutton questo sostanzialmente crea degli oggetti e basta li lascia lì questi oggetti devono essere esplicitamente aggiunti alla nostra interfaccia quindi all'interno della nostra finestra add l add ovviamente un metodo di jframe add t e add b risultato questo ok ma mica tanto nel senso che dove sono finiti gli altri due componenti allora l'idea è noi abbiamo aggiunto dei componenti ma la nostra finestra come deve andare a disporre i componenti bella domanda il punto è che se non glielo diciamo non lo sa abbiamo alcune possibilità possiamo noi quando aggiungiamo un componente andare a specificare esattamente le coordinate coordinate in cui andare a posizionare questo componente coordinate ovviamente relative alla finestra stessa questo però è abbastanza complicato richiede di andare a farsi un po' di calcoli quindi è un qualcosa che normalmente non si fa oppure possiamo andare a utilizzare quello che si chiama un layout manager ovvero una classe che si prende carico di andare ad aggiungere secondo alcune regole che possono cambiare gli elementi che vengono aggiunti alla nostra interfaccia per cui quello che dobbiamo fare è fare un set layout manager e andare ad aggiungere un oggetto di una classe che implementa layout manager per cui ad esempio new flow layout flow layout è una classe che ovviamente deve essere importata no scusate set layout il metodo non set layout manager quindi questo dice bene cara finestra quando ti aggiungono dei componenti chiedi a questo oggetto di tipo layout manager come disporli dove metterli con che dimensioni eccetera per cui a questo punto se lancio ottengo questo vedete la jlabel il jtext field e il pulsante i parametri che abbiamo utilizzato prima vedete nome è sostanzialmente l'etichetta che compare qua jlabel è un'etichetta quindi è un testo fisso che compare sul nostro all'interno della nostra interfaccia il jtext field che è questo campo in cui noi possiamo andare a aggiungere del testo a caso eccetera scriviamo è un campo di testo per l'input il pulsante è un pulsante ok la striga che abbiamo messo qui è la striga che viene messa come etichetta del pulsante come sono stati disposti sono stati disposti secondo i criteri del flow layout il flow layout che cosa fa inizia dall'alto della finestra e dispone gli elementi uno in fila all'alto come fosse un flusso ovviamente se la finestra è grande come in questo caso continua ad aggiungere e li mette centrati rispetto alla finestra se la finestra è troppo piccola che cosa fa va a capo e a un certo punto lascia lì nel senso che non può più andare a capo ok l'altro aspetto interessante del layout manager è che quando io ridimensiono la finestra il layout manager ricalcola posizione ed eventualmente dimensioni degli elementi domanda perché con layout funziona e senza no? Allora che cosa succede? Se io non metto il flow layout e aggiungo un componente alla mia finestra quel componente viene utilizzato come il contenuto della finestra per cui nel caso dell'assenza di layout i tre componenti erano effettivamente aggiunti uno dopo l'altro ma l'ultimo aggiunto era quello che andava sostanzialmente a ricoprire gli altri e quindi c'era questo grosso pulsante ok che andava a riempire tutta la finestra avendo un layout manager che cosa succede? che l'operazione di add all'interno della finestra viene fatto chiedendo al layout manager dove e con che dimensioni andare a piazzare gli elementi tutti gli elementi hanno tendenzialmente una dimensione diciamo così naturale per le jlabel è la lunghezza della stringa per i jbat per i jtextfield è questo numero che abbiamo dato qui questo 20 è sostanzialmente il numero di caratteri che possiamo ospitare poi è ovvio che usando un font non proporzionale se io metto delle i mi stanno molti più caratteri rispetto a mettere soltanto delle m che sono molto più grandi più larghe ok per cui 20 è indicativo il pulsante di nuovo dipende dall'etichetta e dipende da un piccolo margine extra quindi i componenti hanno una loro dimensione naturale il flow layout rispetta questa dimensione naturale ma ci sono altri layout ad esempio c'è un layout che si chiama grid layout che sostanzialmente suddivide il nostro schermo in una griglia delle celle tutte uguali e in questo caso gli elementi vengono piazzati lì sì perché il set visible è buona norma non è obbligatorio è buona norma metterlo in fondo perché in questo modo abbiamo la visibilità una volta che la finestra è stata completata altrimenti l'aggiunta di nuovi elementi potrebbe essere fatta mentre la finestra è visualizzata nulla vieta di mettere il set visible dall'inizio il rischio molto semplice che mi veda gli elementi aggiunti uno per volta ok tanto per farvi un esempio io posso mettere il set visible qua su e qui faccio un thread appunto slip 5.000 metto un altro qui e un altro qui per cui se lancio ovviamente gli oggetti li ho messi dopo se lancio il tutto eccolo qua se dovrebbe apparirmi gli aggiunge ma la finestra nessuno dice di rivisualizzarla quindi sostanzialmente gli elementi sono aggiunti lo possiamo fare di nuovo andando a modificare la finestra mi li aggiunge tutti alla fine quindi li aggiunge dopo e soprattutto se io non ridisegno la finestra non me li fa vedere quindi il motivo è potrei vedere gli elementi apparire se magari durante la visualizzazione la finestra viene visualizzata per qualche motivo oppure non vedo nulla perché mostro la finestra dopodiché aggiungo gli elementi ma l'aggiunta degli elementi non mi scatena il refresh della visualizzazione quindi questo è il motivo per cui tendenzialmente è buona norma mettere il set visible in fondo una volta che la finestra è completa ok domanda se simple frame stende j frame non dovrei mettere super all'inizio qui allora no in generale quando io ho l'ereditarietà non ho la necessità di aggiungere super perché tra virgolette è come se fosse aggiunto in maniera automatica lo posso scrivere sicuramente e non mi cambia nulla ma non è necessario perché automaticamente viene aggiunto dal compilatore il super è necessario quando io voglio passare dei parametri esplicitamente al costruttore della mia classe di base allora devo scrivere super e dentro nelle parentesi andare a mettere i parametri altrimenti è un qualcosa che è implicito allora rispetto al quello che vi ho visto prima io vi ho messo il i ritardi tra la creazione tra le varie creazioni non le ho messe nelle aggiunte per cui questo è il motivo per cui venivano fatti vedere tutti alla fine non aggiunti uno per volta non sto a rifare l'esercizio di prima però se gli slip li metto tra questi ad dovreste vederli comparire buongiorno non posso rispondere allora grazie scusate la funzione do not disturb non funziona evidentemente quindi lo potete fare ma abbiamo visto che il set visible messo prima può sostanzialmente dare dei problemi funziona tutto ma non è l'ideale quello che posso fare è se io voglio andare ad aggiornare un'interfaccia quindi avete visto posso aggiungere tranquillamente gli elementi dopo quello che posso fare è fare un this appunto ripaint ripaint sostanzialmente forza la il ridisegno della nostra finestra in realtà segnala al sistema operativo che la finestra dovrebbe essere aggiornata e il sistema operativo chiederà al al codice java di ridisegnare la finestra è un giro un po' lungo ma non è esattamente un ridisegno esplicito perché deve essere tutto ovviamente iniziato dal sistema operativo che è quello che poi gestisce la visualizzazione finale le barre del testo i bordi eccetera non sono disegnati esplicitamente dalla direttamente dall'applicazione java ma sono delle richieste fatte da java al sistema operativo quindi questo sostanzialmente forza un fresco della grafica di user internet ok questi sono gli elementi fondamentali ne abbiamo visti elencati alcuni altri per cui abbiamo ad esempio jpanel piuttosto che jpanel jlist jpanel è sostanzialmente un contenitore di componenti quindi posso andare a sistemare i componenti all'interno di questo panel che li raggruppa il panel a sua volta può utilizzare un layout manager e quindi posso avere una composizione di diversi layout non sto a farvi l'elenco di tutti i componenti ce l'avete sulle slide e sull'interfaccia vi richiamo velocemente un paio di layout oltre al flow layout che abbiamo visto mette gli elementi uno dopo l'altro esiste il grid layout che dispone di elementi secondo una griglia ovviamente devo andare a specificare il numero di righe e il numero di colonna e successivamente abbiamo il border layout che ha gli elementi disposti in questo modo quindi abbiamo due elementi che si chiamano north e south che sono sopra e sotto e poi abbiamo elementi che si chiamano west, center e east che sono nella fascia centrale e sostanzialmente vanno a costituire una specie di bordo e poi abbiamo il grid bag layout che è sostanzialmente un'evoluzione della griglia dove posso andare a avere righe e colonne con dimensioni diverse celle che occupano più di una elementi che occupano più di una singola cella allineamente all'interno della cella di tipo diverso quindi è quello sostanzialmente più flessibile domanda sul border layout north può essere utilizzato per la barra degli strumenti sì volendo sì in realtà spesso c'è un menu che può essere aggiunto alle finestre ok non non lo vediamo ma volendo la finestra può avere un menu che è un elemento standard delle nostre finestre perfetto detto questo se torniamo al nostro pattern di partenza cioè l'MVC abbiamo visto il model li possiamo costruire come vogliamo la view abbiamo visto che normalmente si basa su un territorio principale e su elementi che vado ad aggiungere e poi abbiamo il controller che è quello che si occupa degli eventi come funzionano gli eventi allora l'aspetto fondamentale da tenere presente quando noi andiamo a gestire e andiamo a costruire un'interfaccia grafica è che a differenza di tutti gli esempi che abbiamo visto finora dove l'ordine di esecuzione delle istruzioni è predeterminato io ho un main con al suo interno una serie di chiamate a funzione e vengono fatte chiamate a funzione chiamate a metodo e vengono fatte nell'ordine in cui sono elencate finito il programma quando abbiamo a che fare con l'interfaccia grafica il flusso di esecuzione dei metodi non è predeterminato dipende dall'ordine con cui verranno premuti i pulsanti o con cui verranno generati gli eventi di interazione con l'utente ovviamente all'interno di un metodo i singoli passi verranno fatti sempre allo stesso ordine ma in generale l'ordine tra i vari metodi che compongono il nostro sistema non è noto in partenza per cui posso prima caricare un file e poi salvarlo oppure posso fare il viceversa per cui l'idea è devo andare a avere un meccanismo che mi permetta di gestire per l'appunto gli eventi l'evento è quello che avviene tra l'utente e l'interfaccia e che viene segnalato alla nostra applicazione in modo che possa gestirlo ok questa è l'idea di base vediamo il tutto su un esempio banale in cui andiamo a costruire i vari componenti andiamo a creare una nuova classe model counter quindi un contatore private int valore public get public int get valore public void increment if valore maggiore intero quindi ecco difficile immaginare un modello più semplice di questo l'unico dato è un valore intero ecco forse potremmo mettere un valore booleano per cambiare il valore per farlo ancora più semplice e il get valore sostanzialmente restituisce questo dato e abbiamo incremento e decremento che permette di incrementare e decrementare il nostro valore ovviamente implicitamente ma lo scrivo così è più evidente questo viene inizializzato a zero ok new class e andiamo a mettere view counter come prima extends reframe public view counter e qui andiamo a mettere i nostri vari pezzettini può essere utile passare al costruttore il riferimento al model di cui deve visualizzare l'informazione da qui qui potremmo passare model counter this.model uguale così ce l'abbiamo lì e successivamente se serve possiamo andare a richiamarlo direttamente per andare a recuperare i dati a questo punto facciamo un set size 300 300 facciamo un set layout new flow layout set default operation DisposedOnClose e SetVisible. È possibile che voi troviate in giro invece di SetVisibleShow. Show era presente nelle prime versioni di Swing, adesso è deprecato. Però il funzionamento è lo stesso. Show equivale a SetVisibleTro. Per evitare metodi deprecati non lo utilizziamo. Allora, in generale, abbiamo visto alcuni esempi di metodi deprecati qui e là durante i nostri esercizi. L'idea di base è quando un metodo è sostituito da altri, o comunque è meglio non utilizzarlo, viene dichiarato come deprecato. C'è una notazione che occe la deprecated che dice questo metodo è deprecato e quindi il compilatore automaticamente genera il volume. Questo vuol dire che il metodo è ancora lì, ma in future versioni potenzialmente potrebbe scomparire. Quindi è buona norma, se noi andiamo a sviluppare del codice oggi, non utilizzare metodi deprecati perché domani potrebbe non esserci più quel metodo. O potrebbe non funzionare più correttamente. Quindi l'idea è quando vedo i metodi deprecati, li evito. Allora, andiamo a costruire quella che è la nostra interfaccia grafica. Che cosa mettiamo? Mettiamo un pulsante per incrementare, o un pulsante per decrementare e una label che contiene il valore attuale del nostro contatore. Visto che questi pulsanti, questi elementi, potranno essere utilizzati non soltanto nel costruttore, ma eventualmente anche in altri metodi, è di solito buona norma andare a mettere i componenti, non come variabili locali in un costruttore, ma metterli come attributi nella nostra classe. Quindi andiamo a mettere un jbutton, incremento, uguale new jbutton, un altro jbutton, decremento, uguale new jbutton. Qui potremmo andare a mettere più e meno, come etichette per questi due pulsanti. Jbutton ovviamente deve essere importato. e poi andiamo a mettere una jlabel, valore uguale new jlabel. Inizialmente mette un punto interrogativo perché non sappiamo qual è il valore del nostro contatore. jlabel come gli altri deve essere importato. Come andiamo a disporre i nostri elementi? Allora, se invece del floor layout, mettiamoci un border layout, tanto per cambiare un po'. Possiamo andare a mettere Nella parte nord, vi ricordo che il border layout è fatto così. Se lo trovo. Il border layout è fatto così, qui c'è un componente nord, sud e center, quindi possiamo mettere i due pulsanti nord e sud e nel center mettere la nostra etichetta con il valore. Ovviamente quando facciamo un'operazione di add e il layout, il deep border layout, possiamo andare a specificare un ulteriore parametro che è la posizione in cui andare a mettere il nostro elemento. Mentre nel floor layout gli elementi vengono messi uno dopo l'altro, in questo caso invece ci sono queste cinque posizioni ben definite per cui aggiungendo vogliamo farlo nella posizione esatta. Per cui add, abbiamo pulsante di incremento che va in border layout.north scusate, ho copiato decremento e valore. Quindi il decremento sta nel south e il var sta nel center. E quindi volendo mettere assieme questi due elementi, app counter, quindi vado a creare una classe separata con il main che è quella che ha semplicemente lo scopo di avviare il tutto. Quindi l'app crea gli oggetti model view controller, li mette assieme, quindi avremo un model counter cnt uguale new model counter creare un model view view uguale new model view e ripassiamo il counter. scusate, non è model view ma è view counter ecco se faccio così non ho dimenticato nulla ottengo sostanzialmente il mio layout vedete non essendoci gli elementi est e ovest il centro occupa tutta quest'area e essendo non avendo dato un dettaglio il nostro punto interrogativo viene allineato a sinistra. Domanda è possibile suddividere ulteriormente i campi south center si io posso aggiungere in una di queste aree un oggetto jpanel assegnare al jpanel un layout manager e fare in modo che questo layout manager vada a gestire il sotto layout all'interno del panel ovviamente all'interno del panel posso aggiungere altri panel e via di questo passo ok domanda perché gli elementi li abbiamo messi come privati qui non li ho messi come privati perché velocemente potenzialmente questi potrebbero essere utili non privati per andare a fare operazioni di test però ci arriviamo dopo io posso immaginare che periodicamente il valore del nostro contattore possa cambiare per cui che cosa faccio vado a definire un metodo public void update che non fa altro che andare a prendere il valore che sta nel counter quindi valore uguale model punto get valore e poi va sostanzialmente a dire val punto esiste un metodo che si chiama set text string punto value of val e già che ci siamo prima di fare la visualizzazione possiamo chiamare update qui così invece invece di avere il punto interrogativo o il valore domanda, i pulsanti più o meno vengono entrambi in alto attaccati allora, attenzione rispetto alla versione iniziale io qui ho messo un border layout inizialmente avevo messo un flow layout che quindi me li mette uno di seguito all'altro se volete possiamo vedere l'apparenza diversa se vado ad utilizzare un flow layout che ottengo più, meno e zero in questo caso il fatto che specifichi nord, sud o centro viene bellamente ignorato perché il flow layout mette gli elementi uno dopo l'altro e quindi abbiamo i due pulsanti più o meno e zero che sono stati aggiunti nel log l'altra cosa che possiamo fare è andare a fare un val.set horizontal alignment e qui andiamo a mettere val punto in realtà jlabel.set possiamo anche andare a mettere e andare a modificare il font, la dimensione, eccetera però è un passaggio in più quindi a questo punto torniamo al nostro border layout e verifichiamo che il tutto appaia correttamente come potremmo aspettarci quindi in questo caso vedete abbiamo il più, lo zero, il meno io posso tranquillamente ridimensionare senza problemi per cui il grosso vantaggio di avere un layout manager è che non devo andare a fare calcoli scelgo il layout che più mi piace e che più va in conto alle mie esigenze metto gli elementi e automaticamente disposizione e tutto sono calcolato se voi doveste andare a piazzare gli elementi in posizioni fisse quindi dando veramente le coordinate delle dimensioni o no, o evitate di ridimensionare la finestra oppure dovete andare quando c'è un ridimensionamento a ricalcolarvi dimensioni e posizioni perché è molto complicato ok? a questo punto ci resta il terzo elemento che è il controller ma di controller parleremo dopo una breve pausa ok? facciamo 15 minuti io faccio 25 quindi a 40 riprendiamo intanto metto il codice a disposizione l'ultimo passo che ci manca per risolvere per poter andare a sviluppare la nostra interfaccia grafica è la gestione degli eventi qui vedete riepilogato sostanzialmente come vengono gestiti gli eventi in Java allora in Java tutti i componenti possono generare degli eventi e quindi a differenza cioè in base al tipo di componente possono essere generati diversi tipi di eventi per cui un pulsante può generare un evento di tipo action event che corrisponde alla pressione al click sul pulsante ho altri tipi di eventi per cui ho gli eventi di spostamento del mouse di pressione al rilascio di un tasto eccetera eccetera come vengono gestiti gli eventi in Java? c'è un meccanismo di delega per cui io segnalo a un certo componente che quando riceve un particolare evento quell'evento deve essere delegato a qualcun altro quel qualcun altro sarà ovviamente il nostro controllore quindi la procedura è innanzitutto vado a registrare un oggetto che si chiama listener che è quello a cui delegare poi l'esecuzione vera e propria la gestione vera e propria dell'evento chiamando il metodo add listener sul nostro componente per cui se abbiamo un pulsante e vogliamo andare a registrare un listener per gli eventi di tipo action andrò a chiamare il metodo che si chiama add action listener un listener è un oggetto che implementa l'interfaccia listener corrispondente alcune interfacce listener sono funzionali nel senso che hanno un unico metodo altre sono un po' più complesse quindi vado a creare questi oggetti e questi oggetti verranno chiamati quando si verifica il particolare evento quindi una volta registrato il listener se io faccio un click sul pulsante questo scatena la creazione all'interno del nostro componente di un nuovo oggetto di tipo action event quindi un oggetto di tipo event contiene la descrizione dell'evento su quale oggetto è stato fatto la posizione se si tratta di un evento di mouse il timestamp quindi l'istante in cui è stato generato più altre informazioni queste vengono impacchettate dentro questo oggetto event che viene poi inviato al listener chiamando il metodo action perform e passandogli l'oggetto event all'interno di questo listener faccio quello che voglio rispondo all'evento come meglio credo ok? quindi se vogliamo andare al nostro codice allora il legame tra la view e il controller può essere fatto in tantissimi modi la view potrebbe ricevere un riferimento al controller e quindi utilizzare quello oppure il controller può ricevere un riferimento alla view e utilizzare il riferimento alla view per fare la gestione degli eventi eccetera quindi le varianti sono tante andiamo a creare un oggetto controller vi sto creando tre classi diverse ma ovviamente avete visto sono veramente banali avremmo voluto mettere tutto all'interno di un'unica classe quindi questo è il controller counter diciamo che vogliamo andare a gestire gli eventi di tipo action event quindi i clic sui pulsanti e abbiamo il nostro con roller vado a mettere il mio costruttore a cui posso passare diciamo la view e il modello in modo che il controller possa agire su entrambi quindi avremo view counter e model counter dis.view uguale a view e dis.modell uguale vado a creare gli attributi e a questo punto vado a gestire gli eventi quindi view punto increment punto add action listener e qui devo andare a mettere un oggetto che implementa l'interfaccia action listener qui ho diverse opzioni prima opzione dico che questo controller implementa l'interfaccia action listener e quindi qui vado a mettere this opzione 2 visto che action listener è un'interfaccia funzionale vado a scrivere il tutto come una lambda e quindi nella lambda vado a mettere model punto incrementer e poi vado a dire view punto update view punto deck punto add action listener evento quindi nella nostra app generale avremo il modello view avremo il control counter control counter e nell'ordine abbiamo la view e il modello il computatore a questo punto possiamo lanciare la nostra applicazione e se non ho commesso errori eccolo qui più 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 meno ok questo mi permette di andare a gestire gli eventi in qualche modo ovviamente posso aggiungere altri eventi per cui posso avere i click posso avere i tasti premuti sulla tastiera eccetera domanda quindi i tasti vanno aggiunti scusate i listener vanno aggiunti all'interno del del controller non necessariamente ok questo è quello che è comodo fare in questo caso potrei aggiungere i listener andando a specificare l'intero controller però questa è la cosa più ragione che volete fare non c'è una regola generale domanda sul view quando io faccio il set text in realtà vado a cambiare il contenuto ma non segnalo che si debba andare a aggiornare la visualizzazione quindi potenzialmente potrebbe esserci il stesso problema con l'add il set text in realtà è utilizzato in modo da garantire che il contenuto sia poi modificato ok quindi il set text cambia il contenuto e quindi va tendenzialmente a rivisualizzare domanda se volessi che alla pressione del tasto R il contattore si resettasse cosa dovrei fare allora per come è fatto il modello non posso fare un reset ok quindi volendo fare un reset dovrei avere ovviamente il mio modello public void reset valore uguale a 0 in questo caso ho un modo per andare a fare il reset a questo punto all'interno del controller devo andare a mettere un key listener che permetta di leggere i tasti ok quindi posso fare se ricordo bene si può aggiungere sulla finestra generale add key key listener il key listener non è un'interfaccia funzionale perché ha diversi metodi quindi qui devo andare a mettere un new key listener e qui devo andare a importare l'interfaccia e poi ad aggiungere i metodi non implementati ecco vedete che key listener ha questi tre metodi key typed key pressed e key released che sostanzialmente corrispondono a il typed vuol dire che io ho premuto un tasto normalmente un tasto che abbia una corrispondenza key pressed riceve l'evento di singolo tasto premuto e released quando io rilascio il tasto diciamo che nel caso specifico a noi interessa che sia stato premuto e quindi poi rilasciato anche il tasto error ok quindi se e punto get key char quindi mi dà il carattere associato al tasto è uguale a r allora qui andrò a fare model punto perfetto allora adesso verifichiamo se funziona perché dipende dal componente che ha il focus c'è un errore da qualche parte ah qui manca un punto di ricco quindi posso incrementare decrementare e allora se prende r non lo prende perché probabilmente non lo prende sulla finestra e devo metterlo sui componenti non so quale componente manca un update giustamente potrebbe essere quello model reset e più punto anche l'r non mi piace nel senso che l'evento viene preso probabilmente dal pulsante e non dalla dalla finestra ok quindi verifichiamo se funziona soltanto su questo ecco in questo caso si vedete che l'ho messo su quello quindi avendo essendo il componente in questo momento che ha il focus è lui che riceve l'evento di tastiera se faccio il meno vedete che non fa nulla l'r perché l'evento viene mandato a questo pulsante che è quello attualmente col focus domanda si potrebbe fare incrementare e decrementare il contratore tenendo premuti i pulsanti e temporizzando il tutto sì il punto è che l'action event è uno cioè è la pressione completa dei pulsanti a rilascio dovrei andare appunto intercettare degli eventi più di basso livello cioè il pulsante premuto e quindi a quel punto far partire un meccanismo che fino che ogni 5 millisecondi ogni 500 millisecondi incrementa finché il pulsante non viene rilasciato però ovviamente domanda qual è la differenza da chi type key type vuol dire che io ho essenzialmente inserito un carattere quindi ho premuto e rilasciato il tasto e è come se avessi inserito il tasto quindi se sono se sto scrivendo in un'area di testo ho inserito quel carattere key press vuol dire che io ho semplicemente premuto il pulsante key release vuol dire che io l'ho rilasciato key press e key release servono più che altro non per i tasti normali ma per i tasti di controllo quindi shift control eccetera in cui mi interessa effettivamente sapere se è stato premuto o meno e quindi settare dei flag per fare altre operazioni per tutto sui tasti normali i tasti corrispondono a caratteri stampabili normalmente quello che si fa è di andare a utilizzare un key type ok a questo punto l'update esplicito potrebbe non essere la soluzione ideale perché uno devo ricordarmi tutte le volte di andare a modificare a fare un update due potrei avere degli update che vengono fatti dei cambiamenti all'interno del mio model che non sono legate all'interfaccia ma sono legate ad esempio al tempo immaginate avere un timer che avanza ecco io vorrei che ogni secondo fosse aggiornato il tempo quindi a volte conviene avere un meccanismo che permetta di andare a notificare alla view che qualcosa all'interno del nostro model è variato quindi questo lo posso fare utilizzando un pattern che è sostanzialmente quello dell'observer observable posso utilizzare varie strategie quindi posso utilizzare la coppia observer observable che però in realtà è stato deprecato perché non è abbastanza flessibile posso utilizzare la classe property change listener che sostanzialmente mi permette di andare a notificare gli eventi oppure posso in maniera molto più semplice andare a definire un'interfaccia ve lo scrivo qua così abitiamo di utilizzare classi esterne vado a mettere un'interfaccia che chiamo model listener che ha un unico metodo void model change ok poi la cosa si può fare molto più complicata specificando il tipo il dato che è cambiato come parametro avendo tanti metodi che vanno ad identificare diversi tipi di variazione eccetera però model change in questo caso è molto semplice per cui all'interno del del mio model avrò un un pubblic droid set model l e ogni volta che faccio un cambiamento vado sostanzialmente a dire listener.modelchanger e qui se vado a decrementare il valore segnalo che è stato modificato e anche qui nel caso in cui io vado a dare il set. A questo punto la mia view che cosa fa? Andrà a registrare se stessa come listener. Quindi andrò a fare model.set modelChangeListener posso utilizzare una lambda e la lambda semplicemente fa una create. Quindi quando viene chiamato questo metodo scateno l'update. Quindi nel mio controller a questo punto non ho più la necessità di andare a fare l'update della view perché è cambiato qualcosa perché ci penserà il nostro modello a notificare la view del fatto che il valore è cambiato. Se eseguo... Vedete che in questo caso premo più quindi arrivo sostanzialmente a questo increment qui viene chiamato modelIncrement modelIncrement incrementa il valore quindi sostanzialmente fa un valore più più poi chiama sul listener il modelChange il listener registrato è sostanzialmente questa lambda che a sua volta chiama il metodo update e update cambia il contenuto. per cui l'idea è all'interno del nostro modello abbiamo i nostri metodi di gestione del modello normale alcuni di questi metodi possono cambiare il contenuto del modello e quindi potenzialmente un cambiamento del contenuto del modello può influenzare la vista. Quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo definito un'interfaccia e abbiamo aggiunto questo metodo che permette di aggiungere un listener quindi chi si registra come modelListener riceverà una notifica tutte le volte che il nostro modello viene modificato. Se il modello viene utilizzato semplicemente in lettura non succede nulla. Quindi questo listener modelChange chiama il nostro modello scusate il nostro listener dicendogli è cambiato il contenuto del modello quindi aggiorna. La view che cosa ha fatto? Ha registrato un listener per il modello che sta seguendo e in risposta a eventi di questo tipo quindi al fatto che il contenuto del modello sia cambiato semplicemente chiama il metodo update che è quello che abbiamo definito qua sotto. Quindi a questo punto il nostro controller deve solo preoccuparsi di andare a aggiornare il modello poi sarà compito del modello andare a notificare la view che effettivamente qualcosa è cambiato. Se faccio un decrement e all'interno del modello se il valore è già uguale a zero non viene fatto nulla allora non viene più chiamato l'aggiornamento. Il counter non può sapere se il modello cambia scusate il counter il controller non può sapere se una certa operazione cambia necessariamente il modello. non sa se il valore è zero oppure no e quindi un decremento effettivamente ha un qualche effetto. Il modello è quello che effettivamente ha questa informazione quindi sa se una certa operazione ha cambiato il contenuto e quindi è necessario andare a notificare la view. questo ovviamente ci consente di andare ad aggiungere altre view quindi view model view counter 2 extens reframe vado a copiare un pezzo dell'altra così facciamo prima mettiamo soltanto la label non mettiamo i pulsanti possiamo evitare di mettere il il border layout non importa il il modern counter lo modifico perché in realtà così ne ho soltanto una voglio avere una lista di listener ok E qui quando ho questo, avrò business.provic.l.madecente. In realtà anche qui posso dire se il valore... diverso da zero, allora fai un reset, alcuni minuti non fare nulla. Quindi l'idea è, vado ad avvisare tutti i miei listener, quindi nella mia app generale, oltre a creare questa view, vado a creare un'altra view. 2.2 devo salvare. Questa è la 2, questa è la 1, e quindi se io vado a incrementare qua, vedete che incrementa anche la 1. perché il model notifica a tutte le view interessate che qualcosa è cambiato. Domanda, il listener associato al microfono non esiste nelle interfacce base, no. Non ci sono listener in grado di gestire i comandi virtuali. ovviamente è possibile che alcune operazioni siano, diciamo così, costose in termini di tempi di esecuzione. per cui la mia view, quando ha bisogno di fare un update, potrebbe avere la necessità di utilizzare, ad esempio, un executor service. Quindi io qui potrei avere... executor service spagna uguale executors.moo extract pool e metto due l'update, invece di andare a fare l'operazione così, potrebbe fare runner.submit scusa grafica, chiuso a fondo e punto di attrazione. Quindi questa operazione, ovviamente in questo caso è banale, potrebbe sicuramente andare a essere lunga. In questo caso io quando vado a incrementare questa operazione di aggiornamento dell'interfaccia viene eseguita in un thread parallelo. Stessa operazione dove effettivamente potrebbe avere addirittura più senso nel controller quando io devo fare un'operazione sul modello, questa operazione potrebbe essere svolta all'interno di un nuovo thread. Quindi essere eseguita, essere un task che io sottometta a un executor. In modo che il thread che gestisce gli eventi dell'interfaccia grafica termina lì il suo compito e torna disponibile ad eseguire altri eventi. Tutto il resto delle operazioni vengono svolte dentro un thread parallelo che ovviamente va per conto suo e quindi non mi rallenta la mia interfaccia. Perché se questo increment impiegasse 10 secondi a svolgere l'operazione io per 10 secondi ho l'interfaccia bloccata. Domanda, posso ripetere cos'è il model listener? Allora, model listener è l'interfaccia che abbiamo fatto noi per semplicità ed è questa interfaccia che deve essere implementata da chi vuole essere informato di un cambiamento nel nostro modello Camper. Quindi chi vuole essere informato quindi in questo caso le nostre view possono utilizzare questa interfaccia sottomettere questa interfaccia al metodo setModelChangeListener e tutti gli oggetti registrati tramite questo metodo verranno poi chiamati tramite il metodo ModelChange per informare che qualcosa all'interno del modello è cambiato. quindi è un'interfaccia che verrà chiamata dal model per informare che qualcosa è cambiato. Quindi implementando questo metodo potrò andare all'interno delle mie viste ad aggiornare per cui all'interno delle viste io ho questa implementazione dell'interfaccia ModelChange che aggiorna il contenuto dell'interfaccia. Ok. Torno su viewCounter2 che è minimale nel senso che ha semplicemente un unico elemento che è la label che io aggiungo domanda. Quindi il set ModelChange listener aggiunge le view all'elenco dei listener e quando viene chiamato esattamente quando viene chiamato quindi quando modifico qualcosa all'interno del counter è arrivato sostanzialmente eseguo questa lambda che a sua volta chiama il metodo update che è già che è stato 100% che è Ok? A questo punto, due parole su come possiamo andare a testare questa interfaccia grafica. Se io qui voglio andare a creare un nuovo test, posso avere i miei test standard fatti sulla parte di model. Quindi, model counter, c uguale new model. E' ecco, equals 0, c punto, get meglio, c punto incremento. Passer equals 1, eccetera, eccetera. Verifico che la parte di modello, indipendentemente dall'interfaccia grafica, funziona. Devo però andare a verificare anche che l'interfaccia grafica funziona. Quindi, abit void test view, anche questo è un test. Sostanzialmente vado a recuperare lo stesso codice che c'era nella mia app. Per semplicità metto semplicemente un view soltanto. E poi vado a verificare che il tutto funzioni. Quindi, come posso fare? Posso andare a dire serve equals view punto al punto get text. E qui mi aspetto che il valore sia 0. Poi faccio view punto inc punto do click. E a questo punto mi aspetto che il valore sia diventato 1. Per poter accedere a val e inc, eventualmente dec, ovviamente quegli attributi devono avere una visibilità che non può essere privata. Io l'ho messa di package in modo che sia la più stretta possibile, però ovviamente devo andare a renderli visibili, se non può essere sicuramente privato. Ora, esistono modi per andare ad aggirare questo limite, e quindi per accedere, per andare a modificare la visibilità di un elemento, di un attributo, di un oggetto a runtime. Esistono dei metodi che fanno parte del package di reflection che permettono di andare a modificare al volo la visibilità. Però sono metodi non standard, cioè in realtà sono standard, fanno parte delle librerie standard, però tendenzialmente sono metodi che è meglio non utilizzare, perché possono andare ovviamente a modificare la visibilità e quindi creare dei problemi. In fase di test, alcune volte si usano, però è più semplice andare semplicemente a rendere quegli attributi visibili, con la visibilità di package. A questo punto io metto il test nello stesso package della mia classe a testare, si vedono all'esterno di quel package i metodi comunque, gli attributi sono comunque non visibili, e quindi ho mantenuto un po' di incapsulamento di questi attributi, rendendoli però stabili. A questo punto posso anche vedere se il mio test... Vedete che ci ha impiegato un po' di tempo perché ho dovuto avviare e chiudere. Quindi un test, il primo test ha avuto successo, il secondo test... expected 1 but was 0... questo è fallito probabilmente perché l'aggiornamento è stato fatto in trade separato e quindi il mio gettext è stato fatto prima che l'altro thread avesse fatto l'aggiornamento. Quindi se io qui metto un thread.slip 500, forse funziona. L'altra cosa... Io riesco a capire l'errore che mi dà qui. Allora, ovviamente è stato un backup perché lo abbiamo messo in terra per me lo mantiene sottolineato, però non mi dice qualche errore nel bordo. Allora, vediamo se funziona in questo caso. Allora, ecco, un'altra cosa che è bene fare qui è fare un view.dispose. Sostanzialmente andare a chiudere la... Ecco, vedete, in questo caso avendo messo in ritardo abbiamo dato modo al thread di fare l'aggiornamento e quindi tirato il bordo. Dovendo fare i test in interfaccia grafica e soprattutto se avete a che fare con dei thread ecco questi ritardi qua io ho messo 500 millisecondi ma ovviamente ne bastano 5 sono necessari. Il punto è che bisogna metterli un po' ad arte nel senso che bisogna sapere dove effettivamente può esserci in ritardo. E se i thread non sono 2 come in questo caso non sono 20 o 200 non è detto che 5 millisecondi siano sufficienti quindi testare delle interfacce grafiche è molto molto complicato. Una strategia che a volte si usa è quella di utilizzare un ritardo standard 500 millisecondi è molto elevato per cui magari 100 millisecondi per andare a garantire che effettivamente l'evento che io ho fatto quindi questo 2 click abbia avuto tutti i studi necessari. Non è l'unico modo di testare delle interfacce grafiche perché io posso andare anche a testare interfacce grafiche dall'esterno quindi posso tramite il sistema operativo eseguire, mandare degli eventi alla mia applicazione però questo è vicinamente più complicato. Questo approccio qui è interno quindi ovviamente devo sapere come si chiamano gli attributi della mia vista però è relativamente semplice. Il tempo di esecuzione ovviamente è elevato perché avete visto la creazione dell'interfaccia grafica se l'avete provato sui vostri pc vedete che è relativamente lenta. Direi che con questo la nostra panoramica sull'interfacce grafiche Java è conclusa. Sull'eslile che vi ho messo a disposizione c'è tutta una parte successiva che io non ho trattato che riguarda l'interfaccia che si chiama Graphics che permette di andare a disegnare direttamente pixel per pixel quell'interfaccia può essere utile se volete fare dei grafici o diagrammi relativamente semplici però normalmente quando andate a costruire delle interfacce grafiche questo non viene utilizzato. Buona parte delle interfacce grafiche sono sostanzialmente la composizione di componenti che già esistono come quelli che abbiamo visto secondo i layout più o meno complessi. A questo punto se non avete domande direi che per oggi possiamo chiudere qui. noi ci risentiamo lunedì. Ci sono ancora veramente pochi argomenti più specifici di cui vi parlerò poi per il resto le lezioni da questo momento in avanti sono molto più leggere. Ci saranno alcune lezioni teoriche che tendenzialmente io vi pubblico ve le guardate ci sono le slide però è inutile che venga qui a ripetervi sostanzialmente le stesse cose le guardate con i vostri tempi ovviamente poi sono a disposizione durante le lezioni o anche su Slack per rispondere a voi. Grazie.